Il terzo giorno del trekking l'isola di Creta Si era manifestata ai bimbi e al gruppo Kai di Nembro In tutta la sua magnificenza Con le impressionanti gole di Samaria Altrettanto non si poteva dire della cena Che fu loro servita la sera stessa A base di pesci non ben identificati E cucinati non proprio a regola d'arte Erano crudi Ma in compenso ci hanno compensato con la colazione del giorno dopo Ah il giorno dopo probabilmente per Colazione in riva al mare Con vista alba Ok qui ho ripreso solo l'alzatina con i dolci C'era tanta roba Dolci, salato La macedonia con lo yogurt Non si sente a finire Perché era veramente tanta Tanta Mangola Ma Ma a che tappa siamo arrivati alla terza no la quarta quarta tappa sempre sempre tappa costiera partiamo per la tappa numero non lo so forse la quarta costeggiamo il mare e abbiamo fatto il giro di boa perché le tappe in tutto sono sei perciò ne abbiamo fatte tre ce ne mancano tre in questo caso è il punto di arrivo ecco il punto di arrivo era all'utro l'utro che è il paesino paesino bianco e blu e da lì avremmo dovuto prendere il traghetto che ci portava a sfacchià che doveva dove avevamo l'albergo in realtà ma la sera c'è stata un ammutinamento perché siccome lungo il tragitto c'è questa spiaggia marmara famosissima rinomata bellissima allora volevamo fare il bagno in questa spiaggia per forza il problema che poi ci sarebbe stato ancora un pezzo da camminare almeno un'ora per arrivare all'utro e per qui vangelis era sempre molto restivo a farci fare i bagni intermedi perché non lo so perché aveva paura che per di perdere tempo non lo so e quindi per lui il bagno si faceva solo a fine etapa però alla fine siamo riusciti a convincerlo all'inizio avevamo avevamo spuntato tipo 20 minuti di pausa di pausa bagno a marmara niente comunque adesso andiamo avanti dopo vediamo dopo come è andata a finire le capre che scendono giù dalla rupe l'uomo l'uomo il allora questa mattina siamo partiti il sentiero si sta sviluppando lungo tutta la costa del mare e sarà penso così per tutto l'itinerario stiamo alternando pezzi molto belli fra gli scolli come vedete qua dai massoni roccia con tratti abbastanza un po' esposti di sentiero franoso molto molto particolare diciamo che ogni mattina ogni giorno ci riserva delle sorprese dai ecco qui c'era in me così così in mezzo in mezzo al nulla c'era questo 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 villaggio questo una taverna è una chiesina adesso stiamo attraversando tutto un bel pendio sabbioso stiamo arrivando a questo piccolo non potrei definire paesino c'è una chiesetta due case di pescatori vediamo molto bella caratteristica la chiesettina che si vede da qua una taverna che tra l'altro era piena di gente non so da dove arrivavano dal mare con le barche ed erano lì a mangiare ma erano tipo le dieci del mattino non so se non hanno capito anche piccoli gruppettini o alcune persone singole a fare il trekking questo pezzo di percorso diciamo che si vede da l'altro era pieno che si vede da l'altro era pieno che si vede da l'altro e 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 qui dopo proprio dove c'è questo angolo del promontorio da lì si 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 gira l'angolo appunto e il paesaggio cambia completamente cioè si passa da un da un da un assurrioso verdeggiante esatto boschi pini e a queste spianate che sembra di essere nel far west e e diventato anche il cagatoio dagli umani e certo hanno un bel panorama le capri guarda qua che debba andare vista sul mare cosa vuole di più e c'erano i gipeti che volavano sopra le teste sopra le rupi almeno non lo so non so se erano gipeti o grifoni non lo so ma io c'è il nonico o assicomunque e 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 tutto questo questo lungo pezzo per arrivare appunto a marmara adesso cambio di programma scendiamo abbiamo raggiunto la spiaggia di marmara che è qua la fine del trekking sarebbe all'utro che è qua in giro teoricamente dovevamo andare all'utro a piedi da qua un'ora di cammino ancora ma ieri sera c'è stato un ammutinamento perché siamo riusciti a strappare alla guida la concessione per un bagno a qui a marmara a marmara alla fine vanghelis si è ricordato che c'era una un'ulteriore opzione opzione 2 opzione 2 fermarsi lì va bene non dico oltranza ma comunque di fare una pausa considerevole e poi raggiungere l'utro non a piedi come originariamente dovevamo fare ma con i taxi boat ovviamente abbiamo detto di no esatto no 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 a piedi pagato per camminare io ciao alla fine visto che c'è la possibilità di prendere anche un taxi boat una barca taxi per andare all'ultro senza fare la scarpinata a piedi dopo il bagno abbiamo deciso all'unanimità che faremo così che scansa fatiche come ha detto ciò tutti ci dispiace ad accettare la proposta allora la spiaggia beh effettivamente merita peccato per le barche e per troppa gente pensavamo a trovare una baita un po' isolata è una baita è una baita una baita una baia un po' isolata invece c'è la data no vabbè ma c'è normale per arrivare le barche e dici vabbè è normale immagino d'agosto a nulla che c'è lì esatto ricordiamoci che stiamo parlando di prima settimana di ottobre esatto il culturismo di massa ormai non c'è più però bellissima meritava effettivamente c'erano anche gli scogli dove fare i tuffi ce la fai o no ce la fai sì o no ce la fai o no ce la fai sì o no vero la città no per venuta vai Clara vai Clara no, no 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 Bene ma non benissimo Potevi finire su paperissima No allora spiego Perché Sembra niente di che a vederlo così Ma effettivamente Questo gradino non era piano Era in discesa Ma non solo in discesa in giù in avanti Ma anche in discesa lateralmente Perciò ti trovavi con un piede su un piede giù Ed era anche abbastanza scivoloso Infatti a un certo punto ero lì In mezza indecisa Mi sento sentire il piede che scivolava Allora a quel punto mi sono dovuta buttare Però ovviamente il tuffo Non è venuto eccezionale Ha recuperato Pensati alla possibile scivolata E poi oltretutto Era anche abbastanza bassa l'acqua sotto Per cui insomma Se non c'era Enzo che faceva da apripista Io non mi sarei buttata Perché pensavo che Mi sarei aspettata Di sbattere la testa Esatto Di sfracellarmi sul fondale Invece Quasi niente Fritte fatte davvero Perché queste erano proprio le loro patate Niente di sfrugelato Sì sì esatto Veramente buone A volte li fanno anche addirittura Con su la buccia No Sempre Quasi sempre Sempre Siamo in attesa Del taxi Taxi boat Tra l'altro giallo Giustamente perché è un taxi Sì 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 Quindi abbiamo visto Proprio dalla costa Cioè dal mare Tutta questa costa Questa parte dell'isola Che è proprio Cioè sembra Un paesaggio lunare Far west Brullo Comunque Molto bene Comunque si intagli Nella roccia Comunque L'utro Vabbè l'utro Abbiamo avuto pochi Pochi minuti Per fare Vabbè Una passeggiata Un quarto d'ora Metti minuti Sì ma alla fine Una breve passeggiata Sì Una lega bus Centrale Bella Sì queste case Bianche e blu Vabbè carino però Insomma Prima di prendere appunto Il traghetto Per arrivare a Sfacchià 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 Grazie a tutti. ancora gli ultimi gli ultimi dieci minuti a piedi per raggiungere ma dove sei per raggiungere il nostro albergo e dopo questa seconda attraversata oggi due bar che abbiamo preso due battu e anche oggi mettiamo la parola fine alla tappa e vabbè quella l'ho già messa prima della spiaggia anche andare con la barca si fa fatica il nostro albergo era proprio in cima sopra sopra il paese in posizione dominante con tanto con tanto di piscina ci hanno dato la camera più bella che non è una camera è un appartamento c'è c'è la cucina c'è vabbè con vista mare e vista dov'è vista piscina scusa se è poco qua c'è il soggiorno con la cucina il bagno vabbè classico bagno e la camera da letto bellissimo con il terrazzo sul mare sulla piscina la sera un bel tramonto bello veramente no c'è da dire che come sistemazione il giovanni ci ha sistemato sempre bene giovanni e fabio più che altro è stato lui che è giovanni e fabio fabio che ha organizzato e sua mole ha sempre trovato dei miei posti bene merito bene si fabio e cristina perché non ho detto fabio ma in realtà promesso e la sera siamo scesi in paese tu hai sfoggiato la tua camicia hawaiiana camisetta comprata lì in grecia all'utero si scende in paese si va a mangiare per la cena e guardate che bella camicia hawaiiana nuova comprata all'utero ristoranti ristorantino all'aperto e riva al mare c'era prima hanno in senso a portare una quantità di roba che non riuscivo a stare dietro con le riprese di tutto di più anche carne stavolta e alla fine oltre alla solita grappa Rechi normale ha portato questo tipo di grappa al miele che io non l'avevo mai bevuto. Oh Targa che era buona, andava giù. Cioè andava giù come acqua. Non avevi il gusto della grappa in bocca o dell'alcol, proprio quel leggero retro gusto di miele che però ha sciolto nell'acqua. Cioè proprio cortinavi un bicchierino di un altro alla grade e cortinavano a portare. Esatto, infatti poi è andata a finire in questo modo Romano e sapere chi ha detto che non vivo più che sapere che giacgioste per me. Posso bastare Stop Con il vino stop Oh Oh Solo il cappellino Vai tu a fare la simbiettina Pregatene Io non mi ricordo più niente Come è andato a finire Me lo ricordo io Tanto è vero che Le altre persone che erano sedute a mangiare Alla fine ci hanno anche fatto Ah vero ci hanno venuti via Tutta la via ci hanno applaudito Ci hanno applaudito Tutti i tavolini che c'erano Non mi ricordo Ci hanno applaudito Nel casino che abbiamo fatto Che anno è Che giorno è Questo è il tempo Di vivere con te C'è Le mie mani Come vedi Non tremano più E ho nell'anima In fondo all'anima C'è l'immenso L'immenso amore E poi ancora E poi ancora